Cari amici e cari amiche di Salvo 5.0, mi trovo in treno, sto andando a Roma per riprendere il mio pecojoni Italia Tour. Questo video è dedicato all'iniziativa dell'avvocato e amico Alfonso Luigi Marra. Ci ho proprio parlato poco fa al telefono per chiedergli se poteva raggiungermi a Roma, pensavo che lui si trovasse nella capitale, per la tappa di stasera alle 21 a Piazza Navona. Avendo capito che lui invece si trova a Napoli, io ho chiesto magari di raggiungermi il 27 di maggio prossimo, quando io raggiungerò la città partenopea. Intanto ho pensato di registrare questo video per dire pubblicamente e rinnovare il mio totale supporto all'iniziativa di Gigi Marra che ci sarà a Roma il 18 giugno davanti al Tribunale, per sensibilizzare, per aiutare, per mostrare tutto il nostro amore alla magistratura affinché sequestrino le quote private di Banca Italia e cerchino di mettere un po' di giustizia a questa grande truffa ultra secolare del signoraggio bancario. Quindi Gigi, magari ci vediamo a Napoli il 27 maggio prossimo e se riesco a rimodulare ancora una volta il tour, perché io mi ero organizzato per oggi, per il 23 che era la data iniziale, se riesco a rimodularlo ci vediamo a Roma il 18 giugno. Intanto, totale supporto, mi raccomando, supportate la grande iniziativa di Gigi Marra. Ciao a tutti!